bentornati ragazzi in questo nuovo video allora prima di iniziare con il video che è riguardante a voi questo video prima di tutto condividete iscrivetevi al canale e soprattutto mettete mi piace anche se non l'ho mai detto ma è importante però è più importante condividere dopo se volete iscrivervi quello è un passo successivo per quanto riguarda le notifiche tutto quanto se volete seguirmi voglio fare delle domande verso voi che mi seguite dopo tanti dopo tanti utenti se vogliono interagire girate questo video condividete ad altri per quanto riguarda il il futuro di tiago motta e il futuro di giuntuli alla juventus perciò ho ho stilato stilato non stilato perché l'italiano è importante ho stilato 10 domande per quanto riguarda il futuro di tiago motta e giuntuli allora vi parlo a voi prima domanda poi scrivete sotto nei commenti le vostre le vostre risposte va bene ok allora prima domanda tiago tiago motta come allenatore come lo vedete cosa ne pensate di tiago motta come nuovo allenatore della juventus è la scelta giusta questa la prima domanda la seconda quale stile di gioco pensate che cambierà con la juventus sotto la guida di motta terza domanda ruolo di giuntuli qual è la vostra opinione sul lavoro di giuntuli come direttore sportivo fino adesso come sta lavorando ovviamente le domande le faccio a voi però le risposte sono abbastanza diciamo obiettive anche se stiamo anche se anche se non sono qui a fare botta risposta sennò verrà un video lunghissimo dopo se volete farò un altro video più avanti per tirare le conclusioni allora quinta domanda che dopo mi perdo qua mi perdo strategie di calci mercato ecco io di calci mercato lascio ad altre competenze ad altri youtuber comunque strategie di mercato quali sono le vostre aspettative per il calci mercato estivo punto domanda visto che siamo in tema quali giocatori vorreste vedere alla juventus allora ho visto che di calci mercato la juventus ha fatto diciamo un colpo anzi due colpi ecco luis è un altro adesso vediamo se si mettono d'accordo comunque niente allora sesta domanda giovani talenti pensate che la juventus dovrebbe puntare di più sui giovani talenti o su giovani esperti e qui ragazzi la juventus deve fare diciamo la new engine sarebbe la nuova generazione di giocatori giovani promettenti eccetera eccetera di dare più stimolo di far divertire il pubblico stop ho già risposto a questa domanda dopo mi scrivete sotto nei commenti settima domanda obiettivi stagionali quali dovrebbero essere gli obiettivi principali della juventus per la prossima stagione e qui ragazzi apriamo qua ci dovrebbe aprire un dibattito un dibattito perché sarebbe presto a giudicare siamo ancora all'inizio con tiago motta e compagnia ottava domanda ecco competizioni europee come pensate che la juventus si comporterà nelle competizioni europee con la nuova gestione bella domanda bella domanda ragazzi rispondete qui sotto nei commenti che io leggerò vediamo 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 è ancora è ancora tutto da vedere ancora tutto da guardare ancora tutto da stimolarsi il il proseguo del della nuova stagione con la juventus con tiago motta dunque vabbè comunque se dobbiamo fantasticare diciamo che siamo dentro in champions league e poi vediamo la strada che faremo non è penultima domanda penultima domanda rivalità in serie a quali squadre pensate sanno le principali rivali della juventus in serie a quest'anno ragazzi allora questo è una bella domanda è presto però ditemi quindi ditemi voi sotto nei commenti ditemi voi sotto nei commenti che sono curioso anzi tutti siamo curiosi tutti tutti a prescendere rivali di squadre in serie a quali quali squadre per voi saranno pericolosi saranno pericolose per la juventus in serie a quest'anno ultima domanda ultima domanda convolgimento dei tifosi convolgimento dei tifosi convolgimento dei tifosi come come pensate che la juventus possa migliorare il convolgimento dei tifosi e incrementare e incrementare il pubblico e soprattutto la voglia di tifare juventus tirate voi le conclusioni anzi direi che concludiamo questo video e direi ragazzi io aspetto le vostre risposte e ragazzi io vi ringrazio per per aver diciamo sentito queste domande lasciate i vostri ovviamente commenti qui sotto e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video e noi ci sentiamo alla prossima va bene ok scrivetemi sotto nei commenti che sono curioso sono dieci domande molto interessanti che vediamo che vediamo se in futuro ci sarà ci sarà un altro video apposito per per queste domande anche per per futuri anche nuovi iscritti che sentiranno questo questo video e e perché no anche un convolgimento anche su qualcuno mi mi vuole invitare in live e parlare di questo di questi argomenti bene ragazzi noi ci sentiamo noi ci sentiamo alla prossima ciao a tutti ciao a tutti